Il vantaggio principale che ho riscontrato è di poter innanzitutto ammirare delle serie televisive sullo schermo del cinema, quindi quello che di solito magari noi vediamo sul telefono o sul computer o su un supporto televisivo nella magia del cinema e questo mi ha molto emozionato. Poi la possibilità di vedere delle serie che vengono da tutto il mondo e quindi la possibilità di avere una visione globale ma in un linguaggio locale, perché ogni serie porta la propria identità e quindi il vantaggio è imparare. L'ultima serie che mi ha dato binge watching e quindi quasi dipendenza è stata Peaky Blinders. Difficile. Quando ero piccola mi era piaciuta molto Ellie McBeal. Poi vabbè Lady Oscar, cartone animato, Peaky Blinders, Gomorra, Ray Donovan, la prima e seconda di Orange is the New Black. E tante che ho amato, tante. Dovevo prepararmi questa risposta. Sempre in original versione, sempre con le subtitle, sempre. Sono un'autora, quindi devo ascoltare la reale voce e la reale interpretazione dell'autora.